Ciao a tutti i pinchini, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un argomento che in realtà mi sono dimenticata di trattare con voi. Tornando indietro, due mesi fa, ho partecipato a un programma televisivo. In realtà ve l'avevo annunciato in qualche video precedente e avevo anche pubblicato un ulteriore video in cui vi spiegavo esattamente il giorno in cui avrei registrato e soprattutto quale programma avrei fatto. Poi in realtà io sono stata parecchio ingenua e appunto ho pubblicato questo video e mi hanno chiamato dalla redazione dicendomi di cancellarlo e quindi l'ho dovuto cancellare. E poi tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata di dirvi in realtà che cosa ho fatto. Praticamente, tornando indietro, siamo a metà febbraio, quindi tre mesi fa, così per gioco mi sono candidata a Guess My Age. Per chi non conoscesse Guess My Age, è un programma condotto da Enrico Papi, cioè ogni sera sul canale 8 alle 20.30 e ci sono due concorrenti che devono indovinare l'età di sconosciuti e possono anche vincere un monte premi. Bene, io ero lì, che mi stavo annoiando al computer e ho detto vabbè dai, mi candido. Dopo tre giorni mi hanno chiamato subito, mi hanno chiesto di andare o a Milano o Roma, io ho scelto Milano per comodità, a fare il provino. Ah, giusto, io avevo fatto la candidatura indicando anche mia sorella a sua insaputa. Vabbè, quindi chiamo mia sorella e gli dico, guarda, dobbiamo andare a Milano a fare il provino. Quindi arriviamo a Milano, negli studi, ci sediamo in una sala con un signore con una telecamera in mano, non so che ruolo avesse sinceramente, perché non era un autore del programma. Comunque, ci sediamo a un tavolo con delle sedie e lui inizia a registrare, ci fa delle domande sul nostro rapporto, quindi che tipo di sorelle gemelle, perché non lo sapesse se siamo, se siamo pacifiche o litighiamo spesso. E quindi insomma voleva sapere alcuni aneddoti curiosi e simpatici su di noi. Dopodiché ha iniziato proprio a, posso dire, a vedere se io e mia sorella eravamo in grado di indovinare l'età di alcuni sconosciuti. E quindi ci ha fatto vedere qualche foto disconosciuti dandoci degli indizi e noi dovevamo indovinare. E diciamo che ci siamo andate sempre molto vicine e addirittura una volta abbiamo anche indovinato. Quindi il colloquio finisce, mezz'ora, cioè il colloquio, il provino. Eravamo molto soddisfatte perché sapevamo comunque che per essere prese dovevamo non solo essere abbastanza bravi a indovinare l'età ma anche avere una certa simpatia perché ovviamente chi va in televisione non deve essere musone, deve essere un pochettino simpatico. E quindi noi le abbiamo fatte anche un pochino apposta, abbiamo detto delle cose simpatiche su di noi e ok. Infatti dopo due settimane ci hanno già chiamato dicendoci che dopo 15 giorni ci sarebbe stata la registrazione della puntata. Era esattamente, no il giorno esatto non me lo ricordo, comunque penso inizio marzo. Quindi inizio marzo andiamo a Milano, arriviamo negli studi televisivi in cui appunto facciamo una chiacchierata. Eravamo insieme a tre coppie perché quel giorno lì avrebbero registrato tre coppie. Andiamo in una sala con uno degli autori del programma che per un'ora abbondante ci spiega le regole del gioco, quali sono i trucchetti per vincere, le strategie, insomma una chiacchierata bella approfondita. Dopodiché io e mia sorella eravamo le prime fortunatamente, perché le ultime hanno registrato alle 6 di pomeriggio e noi eravamo lì dalla mattina alle 10 e mezza alle 11, quindi appunto noi abbiamo registrato verso le 2. Solo che la riunione con l'autore è stata particolarmente lunga, quindi siamo arrivati in camerino molto tardi e quindi la truccatrice ha dovuto fare parecchio di corso, quindi ci ha truccato, ci ha fatto i capelli, io ero liscia, normale. Dopodiché il costumista entra in camerino e praticamente guarda i vestiti che avevo portato. C'erano da portare tre cambi, io ne ho portati sei, per sicurezza anche tre paghi sacchi, quindi avevo una valigia enorme. Io avevo in mente di mettermi una gonna di pelle nera e un body di pizzo nero. Ovviamente mi ha detto no, nero non è possibile in televisione, quindi ok, perché ho scelto un vestito che avevo portato io, rosso e nero. Vabbè, quindi siamo pronte, io e mia sorella usciamo dal camerino, andiamo nello studio, quindi facciamo un bel percorso a piedi. Ci portano in una stanza vicino allo studio, vuota e lì a turno entrano due autori, il microfonista, ci fanno delle domande, ci fanno parlare a voce alta, perché ovviamente adesso a me sembrava di urlare in quel momento, in realtà proprio dovevo veramente parlare a voce alta, perché altrimenti non si sarebbe sentito nulla in televisione. Quindi ci fanno fare questi test, poi gli autori ci chiedono ulteriormente, sia a me e a mia sorella, delle cose simpatiche su di noi, quindi quello che praticamente sarebbe uscito in puntata e quello che non sarebbe uscito. Poi ci dicono, incontrerete Enrico Papi di persona, perché ovviamente Enrico Papi deve un attimo capire chi sono i concorrenti e appunto come relazionarsi con loro. Infatti poi gli autori ci avevano anche detto, se siete simpatiche ad Enrico Papi, comunque vi lascio un pochettino di tempo in più e vi aiuta. Comunque, quindi noi abbiamo puntato sul sorriso e sulla simpatia, infatti poi Enrico Papi è stato molto simpatico e carino con noi. Quindi entra in camerino, tutto simpatico e sorridente, ci fa delle domande sul nostro rapporto, così. Ok, entrammo in studio, un'ansia a mille, lo studio è piccolo rispetto a come si vede in televisione, cioè io pensavo di, già sono cieca di mio, cioè più si devono anche vedere da lontano uno sconosciuto come faccio. In realtà no, lo studio è molto piccolino, si vede benissimo. C'erano già tutti i spettatori seduti sulle loro sedie e niente, a un certo punto poi iniziamo e lì io sono una persona parecchio ansiosa e agitata, anche perché se avete visto un video, ve lo lascio linkato qui, sulla balbuzie saprete che io balbetto, soprattutto quando mi trovo in situazioni di ansia e terrore e agitazione. In realtà lì in me è scattata una cosa del tipo, sono in televisione, è meglio che io non balbetti, perché poi con il montaggio si può tagliare, però insomma è l'unica occasione che ho, devo farcela. E infatti poi sono andata da Dio, ho parlato, anche perché lì non è che hai molte possibilità, hai l'unica possibilità, ne hai solo una, quindi devi parlare, essere sorridente, perché comunque il pubblico da caso ovviamente non vuole vedere delle persone zitte, musone, vuole sorridere, vedere appunto persone sorridenti e simpatiche. Quindi mi sono veramente sorpresa di me stessa e anche di mia sorella, siamo state molto solari e sorridenti, abbiamo sempre parlato. Quindi niente, abbiamo registrato per secondo me 45 minuti un'ora, è andato tutto molto liscio, non abbiamo mai indovinato l'età giusta del concorrente, perché un conto è da casa, un conto è dal vivo, anche se in realtà dal vivo era più facile che da casa, però insomma indovinare l'età esatta era un po' complicato, però siamo sempre andate molto vicino. Poi cosa succede? Nella manche finale appunto, perché non lo sapesse, si hanno quattro possibilità di poter indovinare l'età dell'ultimo sconosciuto e ad ogni errore si dimezza il monte premi. Generalmente l'ultimo sconosciuto è sempre un signore o una signora anziana, quindi è più difficile indovinare l'età dello sconosciuto. Noi avevamo un signor anziano, cioè anziano sì, ma grande, e ci siamo andate abbastanza vicino, purtroppo per me li portava particolarmente male i suoi anni, quindi non avrei mai indovinato io. Comunque, come ultima opzione, quindi come quarta opzione, avevamo ipotizzato che avesse 68 anni. In realtà quanti ne aveva? 67. Quindi per un anno noi avremmo vinto, e avremmo vinto 6.000 euro, buttali via, sono meglio di niente. Comunque niente, io ho preso questa esperienza come un gioco, come un divertimento, e appunto per mettermi in gioco per vedere come avrei reagito io. Mia sorella l'ha presa un pochettino male, però vabbè è un gioco, cioè alla fine non abbiamo perso niente, potevamo vincere, però non abbiamo neanche perso niente, perciò per me questo è l'importante. E' un'esperienza che consiglio a tutti, e anzi, secondo me, se volete farlo, andate sul, beh, no, basta che scriviate su Google, penso, casting, guess my age, vi candidate, compilate i campi necessari, mandate la vostra foto, perché ovviamente quella è da mandare, poi nel caso vi chiamano, secondo me vi chiamano, cioè a noi hanno detto che ovviamente ricevono migliaia di candidature ogni giorno, anche selezionano, ovvio perché comunque un minimo di selezione c'è, però non penso sia un programma televisivo così famoso da scartare parecchi candidati, insomma, quindi fatelo perché vi divertirete, è un'occasione per vincere dei soldi che non fanno mai male, è un'occasione per conoscere Enrico Papi e comunque per mettersi in gioco, quindi io ve lo consiglio caldamente. E niente, il video finisce qui, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate se vi va, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!